E allora per quell'appalto che cosa avete fatto? Gli amici sono in paziente Vedo molta rabbia ancora, dici? Con chi ce l'hai? Dove è andata il tuo collega? Lo sto cercando ma non rispondo, non rivolgo Voglio il tuo aiuto Che cosa vuoi da me? E neppure io mi fido Ed è per questo che andiamo a trovarlo Figge o non figge di un giudice? Deve tenere i nervi apposta e la bocca cucita Non ha visto niente E come sarebbe che non ha visto niente? Dario! 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 Dario!